Ciao a tutti, sono la Sofia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo l'unboxing della Comic Con Box che non potete vedere perché è dentro questa scatola qui non so che io non ho aperto perché non so se gli oggetti sono dentro qui o se c'è una box nella box una scatola nella scatola per cui l'apriremo insieme avevo considerato l'idea di fare quasi mi taglio avevo considerato l'idea di fare questo video all'aperto ma sono andata fuori non ho trovato nessuna location che mi aggradava perché è sera la mia host family è in casa per cui se sentite gridare, urla così è la tv e niente e quindi avevo considerato l'idea di fare il video fuori nonostante magari i piccini pensassero che fossi pazza o non lo so chiamassero il 911 però va bene c'è la scatola nella scatola questo mese è più pesante di quella del mese scorso sarà un buon segno comunque al solito come con box prima di aprirla accendi la videocamera check fatto ok non si vede nulla ma va bene cosa vedono i miei occhi ok partiamo ovviamente dal pop nooo ma è quello che si muove la testa vedete quanti viaggioni mentali mi faccio muovendo la testa di magneto io poi quando mentre sono al computer che mi annoio poi abbiamo questa cosa che non so cos'è questi mi riempiono di portachiami ma io non ce le ho le chiavi questo è il portachiavi ma non ho idea di che cosa sia poi abbiamo la t-shirt la maglietta questo mese di un colore verde acido oh bellissima questa la metto su domani how to make your own alien no questa t-shirt è fantastica la metto tipo domani subito nonostante io non è una persona molto sono una persona facilmente impressionabile poi abbiamo questa cosa probabilmente è il tutorial di come giocare con queste carte di megaman e protoman universal fighting system se riesco a capire come si gioca posso giocare anche come il mio skid se non è difficile da giocare poi abbiamo degli adesivi lunga vita e prosperità di star trek con la mano di spock poi abbiamo oh wow un esclusivo freedom lord per un game per un game per un gioco un gioco completo essay on pewdiepie but who cares e quindi niente è un gioco completamente gratuito del valore di 15 dollari per cui bello poi abbiamo poi abbiamo no ma dico no ma dico non abbiamo il classico fumetto sottiletta che di solito che di solito abbiamo in queste comic con box ma abbiamo una collection the new avengers il numero 1 abbiamo una bonus art di billy martin ed è questa fantastica stampa con rocket raccoon e stitch ed è la cosa più figa del mondo e poi abbiamo invece il appunto sì il pezzo artistico di questo mese la stampa di questo mese è questa qui che sinceramente non è che mi faccia impazzire questo mi sa che è Godzilla questo è un'idea di chi sia questo sono abbastanza sicuro sia un pokemon adesso non ricordo il nome un drago a tre teste e un'altra cosa qui poi abbiamo la cover variant di civil war questo era il comic con box di questo mese devo dire che hanno messo all'interno tanti contenuti digitali perché appunto abbiamo sì le ca... stavo dicendo non c'è tanta roba invece poi guardando la roba c'è allora sicuramente uno dei miei pezzi preferiti è il Funko Pop di Magneto Magneto che sicuramente metterò qua dietro che si aggiungerà alla mia nerd collection la maglietta mi piace tanto come fare un alieno per i fatti tuoi la maglietta sì mi piace tanto è un verde acceso che è un po' diverso dal solito nero che indosso in questo momento il fumetto è veramente cool mi piace un sacco e poi vabbè la stampa quella regolare non mi piace tanto ma questa bonus mi piace un sacco e cercherò di appenderla da qualche parte ma non ho posti per appenderla questo se sapete che cos'è fatemelo sapere secondo me è una cosa di alien ma non ho la più po' l'idea di che cosa sia poi abbiamo le carte che sì ci sta e poi naturalmente abbiamo gli sticker gli americani vanno pazzi per gli sticker è carino molto bello con questo io vi saluto vi mando un bacio grande 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 fatemi sapere qual è stato il vostro oggetto preferito all'interno di questa box e niente adesso mi tocca sistemare tutto ci vediamo al prossimo video ciao